Allora, se mi porti il foglio, che non voglio parlare niente, voglio essere... esatto, grazie. Mi sento Millie Carlucci parlando con le stemme. Volete che la imiti? Allora, adesso vi stiamo subito con la... Allora, terzo posto, vi fate degli... Oh, per favore, se non sapete fare gli U, potete fare anche gli A, non vedete lo stesso. Fate... ah, tipo, dai, da dottore quando ti tira fuori la lingua, stessa cosa, dai, la sapete fare. Allora, terzo posto, che è esatto, è quella... la busta nera, che suona male, ma è invece stupenda. Oh... You can kill this love! Ecco, la tua busta, call the dance, fate vedere dalla nostra... Dopo tutti i partecipanti di Just Dance, venite che facciamo tutta la foto di gruppo, che siete benissimi. Ecco, vedete che la posizione che era stato proprio, ma abbiamo dei super duci. Adesso, invece, diciamo il secondo posto... I understand the problem. Yeah, the human human shot. Here you are! Oh... Giacomo, con Wannabe! Giacomo, con Wannabe! Aspetta, fatevi vedere la nostra caddy. E ci siamo. Adesso abbiamo il Big Prime, che è esatto, è il bellissimo sport che la vorrei io. La vorrei aver vinto io. Il primo posto va... Oh... Noemi, con Psycho! Non ci credo neanche lei. Shoppers! Io non sono un bel sport, però... Yo, I feel like a gangster right now. Vuoi dire qualcosa, no? Vuoi fare l'acceptance speech come le... Hai mamma? Dai! Comunque supernova assolti, direi che... Vuoi dire qualcosa o niente? Non vuoi dire niente? Al solito faccio io il posto suo. Puoi anche non farlo, vuoi dire... Andalo facciamo! Anche io l'avrei fatto! Però mi piace mettere il barazzo delle persone, no? Così c'è qualcuno che sia capito il barazzo di me, ma in realtà... Sono io! Dai, venite qua! Facciamo questo podio qua davanti anche... Akira, Davy, Lavix, tutti quelli che hanno partecipato che facciamo la foto di gruppo! Abbiamo qua, abbiamo Yu, abbiamo Arya, abbiamo Lavix, Juco, Noemi, Davy, Akira... Dai, dai, dai! Come questo outfit? No, dai, però dai, non mi chiede sto di me, ma sì! No, dai! E' da le lune? Oh, vai bene! Non mi chiede! Non mi chiede, non mi chiede! Non mi chiede! E' da le lune? Oh, vai bene! E' da le lune? E' da le lune, non mi chiede! E' da le lune... Ci siamo! Grazie mille, ragazze, per l'opportunità che ci avete dato a noi di portare questo primo gioco divertente e gara di questo tipo di evento! Adesso, questa boutica di Just Dance verrà spedita a Delhi per un anno, perché torniamo sul pianeta Terra, ovvero io vi dico che adesso, se volete stare qua, facciamo un gioco tutti insieme! Grazie!